E' utile settare un errore in determinate situazioni e facciamo subito un esempio, ok? Molto pratico, diciamo che in questo form poco si sposa, però lo facciamo perché serve sapere che c'è anche quest'altro modo. Come faccio a farvelo vedere? Semplicemente andiamo ad aggiungere nel percorso, quindi sempre nel percorso, e andiamo ad aggiungere un altro button. Ovviamente qui lo aggiungo come button, in realtà potrebbe essere conseguenza di valori che vengono inserite o di combinazioni di valori che vengono inserite da parte dell'utente finale. Perché? Perché quando noi andremo a sviluppare pagine web, dovete tenere presente che queste pagine web poi alla fine ci sarà un utente normale che andrà a usarle e magari se gli semplifichiamo la vita avremmo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi andiamo ad aggiungere un botone molto semplice e qui facciamo un bel click. Al click creiamo un metodo on aggiungi errore e perfetto. E andiamo a dichiararlo all'interno del nostro controller. Eccolo qui. Perfetto. Ora ovviamente ci ha creato per noi il metodo relativo. Ecco qui. Ora dobbiamo aggiungere un errore a un controllo che in questo caso, come vedete, non abbiamo. Switchiamo su distanza, quindi mettiamo di default la modalità per distanza, così avremo almeno subito il controllo del luogo. Così andremo ad aggiungere un errore al controllo del luogo. Come facciamo ad aggiungere un errore, diciamo da codice, al controllo che vogliamo specificare? E' molto semplice. In questo caso abbiamo creato questa funzione che verrà attivata quando, anzi, andiamo proprio a salvare così vedremo. Abbiamo, il bottone non è comparso, perché l'ho aggiunto nella parte sbagliata. Andiamo a metterlo qui dentro, anzi, lo mettiamo proprio, no, mettiamolo qui dentro. Sì, andiamo ad aggiungere un errore. A questo punto, quando premiamo questo pulsante, ma questo, vi ripeto, è solo per didattico, non sono riuscito a trovare un esempio dove fare una validazione come quella che voglio far vedere. Quindi l'unica idea che mi è venuta è quella di aggiungere un pulsante per farvela vedere. Quindi, aggiungiamo questo errore. Quando premiamo il pulsante, vis.form.controls Andiamo a prendere questo controllo qui. Se vi ricordate della volta scorsa, avevamo due form group, uno per distanza e uno per il percorso. Il percorso era un form array, per distanza invece era un form group con un controllo solo. Quindi, form.controls, punto per distanza, vedete che l'intellisense ci aiuta perché sono dei typed form, punto controls, punto luogo e il luogo è il nostro form control. Tra i vari metodi che ci mette a disposizione questo, il control, il form control, c'è ad esempio il set errors. Il set errors, cosa vuole al suo interno? Guardate un po' che cosa ci dice la documentazione. Ci dice errors, due punti, validation errors oppure null. Lasciamo perdere l'options, però vuole validation errors. Se guardate validation errors è la stessa classe che passiamo ad esempio in un custom validator. o anche tramite un observable della sync validator. Quindi la funzionalità è la stessa. Dovremmo ritornare null nel caso in cui non vogliamo far vedere nessun errore oppure dobbiamo andare a creare il nostro errore custom da far vedere a video. Quindi andiamo ad aggiungerlo. Ad esempio qui metteremo errore settato. Diciamo così, errore settato. Due punti. Questo è un errore. Un errore. Ok. Quindi in questo modo andiamo a settare un errore diciamo a livello proprio di programmazione, a livello di codice. Quindi non sarà qualcosa di automatico ma saremo noi che possiamo aggiungere un errore o a determinate azioni dell'utente o a conseguente ad esempio a dei change fatti sul controllo stesso che poi vi farò vedere. Quindi abbiamo errore settato e come abbiamo fatto sia per i custom validator sia per gli async validator Per far vedere l'errore, ad esempio possiamo metterlo qui. Ovviamente non vado, lo faccio molto semplice come abbiamo fatto l'altra volta. Andiamo soltanto a controllare se ha l'errore. Dove? Non certo per il percorso ma per distanza. Distanza. Non certo su tutto il form ma l'abbiamo messo sul controllo specifico. Quindi sul controllo luogo, luogo, eserro, errore settato. Eccolo qui. E cosa facciamo a vedere? Facciamo a vedere esattamente il suo contenuto. Andiamo a salvare. Salviamo anche il controller e andiamo a vedere cosa succede. A questo punto senza che io digito niente, se io premo aggiungere errore, Eccolo che compare. Come vedete, a livello, senza dover creare i custom validator, degli async validator, posso aggiungere un errore da codice, facendo il set error sul controllo stesso. E se volessi rimuoverlo, come facciamo? Andiamo ad aggiungere un altro bottone. Eccolo qui. Andiamo ad aggiungere un altro bottone. Con rimuovi errore. Rimuovi errore. Quindi rimuovi errore. Andiamo a definire sempre il metodo. Eccolo qui. E come facciamo per rimuoverlo? Guardate un po'. Abbiamo diverse alternative. La prima sarebbe set errore settato, due punti null. E andiamo a vedere se effettivamente è così. Aggiungere errore lo set. Ah, il pulsante non l'ho salvato. Risalviamo. Aggiungere errore lo set. Rimuove errore. Vedete che l'ha rimosso. Perché? Perché con la stessa chiave dello stesso errore abbiamo messo un null. Molto semplice, no? Ma potrei ad esempio Contros.perdistanza.contros.luogo Potrei ad esempio Se non ricordo male Non c'è il clear errors No, infatti Sì Dove fare Settare a null Però mi sembra che potessi fare Vediamo un attimo Se io passo null Così Dovrebbe funzionare Della stessa identica maniera Andiamo a verificare Aggiungere errore Rimuove errore Come vedete Ha rimosso tutti Continuiamo Abbiamo visto come Settare l'errore Come rimuovere Quel singolo errore Oppure come rimuoverli tutti Ovviamente la stessa cosa La posso fare Sul form group O su un elemento del form array Ok? Quindi Posso farlo Dove voglio In sostanza E poi Posso farlo vedere Insomma A livello visivo E abilitare Notate che Se io aggiungo L'errore Ovviamente Il pulsante Che L'abbiamo aggiunto Infatti Con il form valid Si disabilita Perché Perché il form Diventa invalid Qui Abbiamo aggiunto Il validatore A livello Ad esempio Di form group Se vi ricordate L'abbiamo aggiunto Ovviamente In questo modo L'abbiamo aggiunto Di default Fin dall'inizio Ma Possiamo anche Attaccarlo E a staccarlo A livello di codice Cioè Posso attaccare Dei validatori O staccare I validatori Anche Dettato Secondo Alcune Situazioni Del form Quindi Io cosa posso fare Ritornando Questo custom Validator Cosa faceva Se vi ricordate Faceva la validazione Su una lista Di percorsi Quindi Noi possiamo Più o meno Nello stesso modo Se adesso Commentiamo Questo codice Possiamo Aggiungere Dinamicamente I validators Secondo Alcune Esigenze Nostre No In questo caso Vabbè I pulsanti Qui non li vediamo Più Andiamo A Postarli Li mettiamo Qui Sotto L'aggiungi Nuova destinazione Magari Cambiamo Aggiungi Validator Validator Rimuovi Validator Ripeto Qui Stiamo facendo Del codice Molto Diciamo Per apprendere Come Funziona Quindi Ritorniamo Rimettiamo Di nuovo Il percorso Quindi Abbiamo Aggiungi Validator Rimuovi Validator Quindi Qui c'è L'async Validator Con città Non valida Eliminiamo Un attimino Questi due Validator Quindi Eliminiamo Il custom Validator E poi Andiamo A rimuovere Il custom Async Ok Perfetto In questo caso Non abbiamo più Nessuna validazione Andiamo A vedere Vedete Rimane Sempre Attivo Posso Decidere Per qualche Motivo X Di attaccare O staccare I validatori Sul form Sul group Dove Mi interessa Quindi ad esempio Non aggiungi Error Facciamo Vis Punto Form Punto Controlls Punto Per percorso Punto In questo caso Abbiamo un form Array Quindi Sul percorso Possiamo attaccare Ad esempio L'async Validator E se vedete Abbiamo Add Validators Ed Add Async Validators Indovinate un po' Indovinate un po' Add Async Validators Attacchiamo Un validatore Asincrono Con l'add Validator Possiamo attaccare I validatori Normali E poi abbiamo Anche il Clear Sync Validators E Clear Validators Quindi qui Quando clicchiamo Che metteremo L'aggiungi Validator Andiamo ad aggiungere Sul form Group Perché se vi ricordate La Sync Validator Funzionava Sul No non funzionava Sul Il custom Validator Funzionava Esatto Sul form Group Hai percorso Eccetera Quindi Andiamo Per il percorso Appunto Add Validators E qui possiamo O mettere un singolo Validatore O un array Di validatori In questo caso Aggiungiamo Vis. Custom Validator Eccolo qua Quindi salviamo Andiamo ad aggiungere La nostra destinazione Aggiungi Validator In questo momento Il custom Validator Se vi ricordate Deve sentire La modifica Sul form Se andiamo A farlo Ecco Come è normale Che sia Non ha funzionato Andiamo a vedere Un attimo Che cosa Ha combinato Come funzionava Il custom Doveva essere Per ogni elemento Ah sì Giusto Rifacciamo La reload Se io facevo L'aggiungi E non succedeva Nulla Aggiungo Il validator Poi aggiungo La nuova destinazione Come vedete I pulsanti Si sono disabilitati Perché Ci deve essere Almeno Qualcosa Di scritto Sui due Textbox Se andiamo A rifarlo Aggiungo Nuova destinazione Ne aggiungo due Vedete Rimangono sempre attivi Se aggiungo Il validator Ho premuto Validator E poi faccio Aggiungi Nuova destinazione Vedete Che a quel punto Il validatore Entra in funzione Ok ok Andiamo avanti Quindi avete visto Possiamo Attaccare Il validatore A runtime Come possiamo Anche Staccarlo Quindi possiamo Decidere Di rimuovere Il validator Quindi Form Controlls Per percorso Punto Remove Validators E anche in questo Caso possiamo dire O un singolo Validator O un array Di validatori Ok E quindi Abbiamo aggiunto Dei validatori E possiamo Anche rimuoverli Come potete notare Però Se io aggiungo Delle destinazioni E poi Aggiungo Il validator Soltanto Nel caso In cui Io Aggiungo Cioè faccio Una modifica Sul mio Form group Vedo Il validatore Che entra in funzione E lo stesso Se io faccio Rimuovi Adesso ho premuto Rimuovi Quindi ha rimosso Il validatore Però soltanto Nel caso In cui Faccio E Delle modifiche Funziona Come faccio Per aggiornare Praticamente Questo stato Vi dico Vis Punto Form Controlls Controlls Punto Per percorso Punto Abbiamo Una funzione Che dice Update Value Envalidity Se la diamo Ad aggiungere Sia qui Sia qui Guardate Quello che succede Salviamo Aggiungi nuova Destinazione Aggiungi Validator Come vedete Scatta Automaticamente Anche La validazione Se io adesso Rimuovo E Vado ad aggiungere Nuova destinazione Hai validatore Lo rimuovi Non l'abbiamo fatto Ah giusto Giusto In questo caso Non posso Far così Devo fare Crear Validators Riproviamo Aggiungi nuovo Aggiungi nuovo Aggiungi validator Qui mi dice Controllare Adesso io dico Rimuovi validator Come vedete Se è ripulito E la validazione È corretta Quindi con questa funzione Possiamo Dire ad angular Guarda Aggiornare il valore E la validità Quindi lui andrà A ricontrollare Poi Tutto quello Che riguarda La validazione Dei campi A questo punto Ci manca Da capire Perché in questo momento Vi avevo fatto vedere In data binding Che Automaticamente Si andava ad aggiornare Il form Infatti se io qui scrivo Prima destinazione Seconda destinazione No Qui automaticamente Si aggiorna Il valore Allora Qui vedevamo Che man mano Che aggiorno I dati Del form Automaticamente Si aggiornava Anche il valore Vi ricordate Vedete Si aggiorna In data binding Anche il valore Che io dopo Vorrei mandare A un back end Ipotetico Ma Questo è un modo Se volessi usare Invece Il bottone Di submit E quindi Avere la possibilità Di fare proprio Un submit Andiamo su quello Di distanza Che magari È molto più semplice Qui avevamo Il pulsante Cerca E se vi ricordate Il pulsante Cerca L'avevamo fatto Che andava Sulla base Del radio Button Andiamo a vedere Per sicurezza Quindi Ritorniamo A mettere Il valore Di default Qui Distanza Distanza Come vedete Avendo Tipizzato il form Anche l'intellisense Mi dice Quali sono I valori Che può subire Questo controllo Ok Quindi Torniamo Per distanza Abbiamo un unico Form E Andiamo a vedere L'html Eccolo qui Quando abbiamo Per distanza Abbiamo l'nccontainer Lo small È basta Dopodiché Abbiamo un bottone Di tipo Submit Che è disabilitato Nel caso In intero form Sia Valido Sia invalido Quindi Abbia un errore Di validazione Che Come abbiamo visto Può essere O Un validatore Un validerio Tipo Required Max Min Length E via dicendo O un custom Validator O un custom Async Validator Quando Mettiamo Il button Di tipo Submit In questo modo Abbiamo visto L'altra volta Dobbiamo Nient'altro Che fare Un data Binding Leng Summit Del non Summit Quindi In questa Funzione Mettavamo Di cerca Eccolo qui Il tipo Di ricerca Tutto chiaro No? Quindi Usavamo Lengi Summit Del form Per fare Il summit Del form Stesso Quindi Andiamo A togliere Via E se vi Ricordate L'altra volta Vi dicevo Di solito Quando vado A creare Soprattutto Dei Reactive Form Un po' Complessi Faccio Questo trick Dire il vero Non lo faccio Proprio così Mi creo Ve lo faccio Vedere Dai Così Faccio vedere L'esempio Completo Per capire Meglio Che cosa Succede Faccio Un div Con Un class Debug E in questa Classe Che faccio Non faccio Nient'altro Che andarmi A stilizzare La classe Punto Class E poi Faccio Faccio Un apply Anzi Neanche Un absolute Mount fixed Top Zero Left Zero Una larghezza Che ne so Di 20 Viewport View E un'altezza Di 20 Viewport 8 Magari Solo metto Tra parentesi Quadra 20 Viewport 8 In questo Modo Magari Ci metto Anche Uno sfondo Bianco BG White E un Overflow Auto In questo Modo Dovrebbe In effetti Non appare Perché Non ho Salvato Eccolo Qui Vabbè Proprio Così No Mettiamolo Un po' Più Largo Facciamo 40 40 Ok Faccio una cosa del genere In maniera tale Che posso vedere Quello che succede Poi nel risultato finale Quindi se io qui scrivo Qualunque cosa Riesco a vedere Diciamo Fisso Quello Che avviene Quindi È sempre lì Fermo E riesco a capire Che cosa succede Infatti vedete Nel path O diverse destinazioni E più o meno Vedo di comprendere Piuttosto che Dover fare Ogni volta Il console log Di quello Che viene Inserito Dall'utente A questo punto Abbiamo il submit Torniamo via Questo debug Perché Non ci interessa Attualmente E Quando noi Premiamo Cerca In questo momento Facciamo vedere Tutto il form Qui sotto Ma Diceva